Dino sperando che me l'ho mandata a poi ciao amore, ciao razi ciao amore ma non me la fa più fare su tiktok cioè la prima... io ho provato ad invitarti ma mi diceva che non sei available, non so cosa voglio dire vedi amore mi dicono che è sempre fatta però non lo sono ve lo giuro non lo sono perché non lo so, non ho dormito ah si ha gli occhi un po' rossi un po' amore, guarda cioè ti prego la zia sembri strafatta no non lo sono cioè te lo giuro amore potrei cazzo fissare un cazzo di dito così per ore non lo sono giuro ah ma io sto smettendo io ho smesso solo con l'erba io sto smettendo di fumare i bomboloni i bomboloni? noi li chiamiamo così noi le chiamiamo bombe al massimo ma i bomboloni fa un po' ridere no non siamo tipo bomboloni, capito? allora vediamo facciamo entrare qualcuno c'è tutto un po' ridere così il 2 migliore in assoluto non lo sai non c'è confezione nel senso la più antipatia del collegio anche? è vero? io assolutamente lo dico ma non so se è riferito a te o a me no no secondo me no no è la più antipatica e per me non c'è un problema no lo parlo come una fattura porca miseria è una fattura te l'ho detto non lo sono ah ti credo per l'amor del cielo per l'amor del cielo per l'amor del cielo non mi sono sfondata davanti a te no però ragazzi adesso in questo momento non lo sono e sto provando a smettere no ma poi saresti diversa nell'atteggiamento se fossi fatta ammo io se sono fatta sono tipo ammo è andata in bug no è andata in bug vabbè oddio non è che sono io in bug raga chi è in bug? io o lei? no raga ditemi ah è lei in bug ok quindi era lei eh lo so raga soprattutto era un problema se ti piacevo essendo che credo tu sia etero quindi non c'è proprio tanto di problema lei tu ti vedi ma ero le tue preferite del collega grazie grazie raga amore ti riaccetto pensando che allora la cosa che mi tormenta quando io sono in bug magari ammo magari ti sei bloccata porca troia no non ero io ero io? a me dava che tu eri bloccata e a te dava che io ero bloccata non ero io eri tu ok scusami allora ti scuso amore mi dispiace zia te non hai capito io stanotte non ho dormito niente domani inizio a lavorare chi inizia a lavorare? faccio la hostess nello stadio sì in pratica mi pagano per starli a congelare su dei tappi allora in realtà è una gran figata perché tipo accompagno tipo i giocatori a sedersi i dirigenti però muoio di freddo comunque hai capito? ammo mi sto immaginando scusate la metoste che veramente sto di merda mi sto immaginando che tu li accompagni a sedersi poi ti siedi sopra di lui le fai offre ammo dipende ci sono dei fighi ce ne sono fidati non più del mio tipo però lo sai come la penso per cui non aprirò bocca perché tu sei felice così io mi amico troppo immagino ammo io sono stra-innamorata divento cioè divento proprio una bimba capito quando io lo penso lo penso 24 su 24 e adesso per fortuna non è in diretta perché sennò farei scuri di merda però è proprio patato è proprio è proprio mio capito cioè è proprio tipo oggi stavo pensando no cazzo quanto lo vorrei lì per lì tipo capito capito benissimo lo volevo troppo qui lo volevo colare non ci credo un po' miseria io invece ho paura di aver combinato un casino con quello aspetta aspetta ho detto ciao puttane ciao coglione di merda che cazzo sai scritto uno perché sei in diretta delle puttane a conto pare cos'è sei un morto di figa e quindi non sai da chi andare allora vai nelle dirette di quelle che reputi puttane qual è il tuo problema nessuno ti caga per favore per favore la hueck per favore amo ma lo sai che io le sto imparando tutte le parolacce maruchine perché c'è una compagna di classi che io amo io sto imparando l'albanese non lo so ancora molto bene però so qualcosina vai vabbè basico poi poi che non sono belle parole comunque questo è marocchino vero? sì aspetta te lo giuro che le so tutte amo soprattutto con mo camo tutte le so tutte qualcuno me ne scordo così amo però lì per lì quando ho capito mi gaso lì per lì un prof ma qualcuno proprio ragazzi sono normali in realtà sono a gusti non strafiga a gusti ragazzi la bellezza è oggettiva la bellezza è oggettiva per questo io mi sono limonatoggiata perché io la trovo strafiga in terva da morire questa cosa non so se la sapete adesso la sanno adesso la sapete forse stiamo scherzando forse non stiamo scherzando forse non stiamo scherzando forse abbiamo tagliato qualcosa però vabbè amo stanotte ho dormito da un mio amico solo che ho messo la storia e ho paura che il tipo con cui sto uscendo l'abbia vista e si sia incazzato cento e cento cento e cento ma io non ci ho fatto niente con sto mio amico eh vittoria ancora amo te lo giuro io manca poco non esco manco più di casa amo solo proprio per evitare amo di proprio anche diciamo sai cosa mi dà fastidio a me anche se io magari vedo un tipo ok e io lì per lì che ne so dico tipo wow figo così mi dà fastidio dentro me stessa dico cazzo sto facendo perché sto avendo questo pensiero sul tipo che non è mio capito ah ma io sono troppo brava non capisco nemmeno perché lo sono eh sei leale e ti avviamo porco Dio cazzo no sto scherzando sto scherzando sto scherzando sto scherzando no 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 devo smettere anche di fare queste cose te lo giuro anche io non ci sto provando eh però è troppo difficile amo ma più che altro perché al mio tip cioè vabbè vabbè me lo scrivi dopo non lo ho fatto non lo ho fatto non lo ho fatto giuro sia ho capito no no perché non lo scrivo lo mi fanno tipo perché ride mo giuro che non ti capisco allora per esempio tipo le parolacce marocchino in albanese che stavamo tirando prima a caso tutte qua dentro in questo momento per chi così mh proprio io ti faccio tutta l'altro ci vuoi ci sa ci sa che ve lo farò amo mi si paga tutto mi sa sei tipo sfocata amo poco per cento mettilo in carica zia zia mi fa fatica tanto è brutto cioè oh anita anita può confermare che sto provando a smettere di fumare anita può confermare chiederemo ad anita allora lo sapete che sapete chiederemo ad anita